Una buona serata dalla nostra redazione edizione ridotta del telegiornale nell'intervallo di Pistoiese Prato. In apertura il terremoto in Turchia e in Siria, la Caritas Diocesana ha annunciato per domenica 19 febbraio una raccolta di offerte straordinaria nelle chiese di Prato, i particolari nel servizio di Giacomo Cocchi. Una raccolta straordinaria a favore delle popolazioni della Turchia e della Siria duramente colpite dal terremoto, lo annuncia la Caritas Diocesana di Prato per domenica 19 febbraio. Quel giorno le offerte in denaro raccolte in tutte le chiese, parrocchie e pratesi saranno devolute per sostenere gli interventi messi in campo da Caritas Italiana per far fronte a questa gravissima emergenza. Prato inoltre è in contatto diretto con il presidente di Caritas Turchia, Monsignor Paolo Bizeti, che in passato ha seguito e formato i primi diaconi permanenti ordinati in diocesi. Ci hanno chiesto di sostenere economicamente gli interventi e il coordinamento posto in essere dal gruppo di lavoro di Caritas Italiana, che sta operando in Turchia, dice Don Enzo Pacini, direttore di Caritas Prato. Per adesso non hanno bisogno di beni materiali da inviare sul posto, data la complessità della situazione nei due paesi, ma di un contributo economico. Grazie per quanto comunità e singoli potranno fare per rispondere a questa emergenza, conclude Don Pacini. Chi vuole può effettuare una donazione sul conto corrente della Caritas diocesana di Prato, specificando in causale terremoto Turchia, Siria, IBAN, IT62, L030, 69, 21, 53, 11, 000, 0004, 003. In attesa del secondo tempo del derby pistoiese Prato, ricordiamo che questo pomeriggio, dopo le 17 i tifosi biancazzurri, oltre un centinaio, si sono ritrovati davanti a Lungo Bisenzio per salutare la squadra del Prato in partenza per Pistoia. Al saluto erano presenti anche il presidente Stefano Commini e il sindaco Matteo Biffoni. I tifosi hanno incoraggiato giocatori allenatore con tanto di cori e fumogeni. La squadra è poi partita in pullman alla volta di Pistoia. Alla trasferta avrebbero dovuto prendere parte circa 800 sostenitori pratesi, ma come è noto, la gara si gioca a porte chiuse per motivi di ordine pubblico. Tra poco, su questo canale, la diretta della seconda frazione di gioco. Passiamo adesso alla cronaca. Hanno rubato capi di abbigliamento per un valore di circa 600 euro in un negozio nella zona di Mezzana e hanno provato a scappare nascondendosi al McDonald di Viale Leonardo da Vinci, ma sono stati fermati e denunciati dalla polizia. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 18. Protagonisti due uomini sulla trentina e due donne di circa 20 anni, tutti peruviani. Il primo di 33 anni è stato fermato presso il negozio. Gli altri tre sono stati individuati vicino al McDonald dove si erano nascosti per poi uscire da una porta secondaria dopo essersi disfatti nei bagni del fast food della refurtiva contenente due borse contenenti appunto la refurtiva. Nell'auto del 33enne sono stati inoltre trovati svariati profumi rubati all'interno di un negozio di Sesto Fiorentino. Tutti e quattro sono stati denunciati per furto aggravato in concorso il proprietario dell'auto o anche per ricettazione. Inoltre una delle due donne è stata segnalata perché irregolare in Italia. Ci spostiamo adesso in Val di Bisenzio per parlare di prevenzione idrogeologica. Fare insieme il punto sugli interventi realizzati nell'anno appena concluso e anticipare quelli in programma per il 2023 per ribadire e sottolineare l'importanza della prevenzione e tutela del territorio in tempi di fenomeni atmosferici ormai sempre più estremi e localizzati nel tempo e nello spazio. È quello che hanno fatto Unione Comuni Val di Bisenzio e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno che in accordo con la regione toscana gestiscono il reticolo di fiumi dell'alta vallata del fiume Bisenzio che poi attraversa Prato. In Val di Bisenzio ogni anno vengono investiti oltre 300 mila euro in monitoraggio e vigilanza attiva del reticolo, in manutenzioni ordinarie come sfalci e tagli selettivi della vegetazione, riparazioni e piccole risistemazioni su criticità localizzate. Il lavoro in Val di Bisenzio per noi sono un caso di studio e credo che vada da un diffusi il più possibile perché la dimostrazione come intercettando l'acqua meteorica in montagna poi si risolvono problemi di dissesti idrogeologici anche in pianura. Gli investimenti che noi facciamo in Val di Bisenzio sono molto corposi, ammontano a più di un milione e mezzo di euro l'anno e servono a prevenire le alluvioni, servono a garantire un ambiente fluviale più favorevoli agli ecosistemi, danno lavoro all'esterno, quindi un procedimento virtuoso. Per quanto riguarda il futuro invece partiranno i lavori di sistemazione idraulica del rio Cambiaticcio, Fosso Stroscione, Fosso Noceto e Rio Pollatia nel comune di Cantagallo e i lavori di sistemazione idraulica contro il movimento franoso delle rio Tignami Cabaiano. Contestualmente è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva per interventi sulla sponda destra delle rio Migliana e località Usella. Sono in corso di assegnazione le risorse ministeriali per i lavori di sistemazione anche delle riocelle, Forrico, Serigli e Canne nel comune di Vernio. Un programma di prossimi investimenti straordinari in sicurezza idraulica che ammonta a quasi un milione e mezzo di euro. Un rapporto con il consorcio che ci consente per esempio di far lavorare le aziende agricole del nostro territorio in quanto eseguono direttamente loro gli interventi sui nostri corsi d'acqua e un rapporto che ci consente di avere molte risorse in più rispetto a quelle che in passato riuscivamo a investire sulla bonifica montana e quindi sui corsi d'acqua della nostra vallata. Poco prima delle 17 si è verificato un incidente sulla 325 tra Terrigoli e Le Confina, uno scontro frontale tra due veicoli. I conducenti, due uomini di 26 e 70 anni, sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118. Per fortuna le ferite non sono risultate particolarmente gravi e il trasporto al pronto soccorso del Santo Stefano è avvenuto in codice giallo. Sul posto si è recata la Polizia Municipale della Val di Bisenzio che ha effettuato i rilievi e gestito il traffico, facendolo scorrere in senso unico alternato fino alla rimozione dei veicoli incidentati. Dopo il successo del primo concerto del nuovo anno, la Camerata Strumentale Città di Prato propone per domani alle 21 al Teatro Politeama un nuovo appuntamento sinfonico consacrato alla memoria della musicologa Fiamma Nicolodi, nipote di Alfredo Cesella e grande amiche fedele abbonate delle stagioni della Camerata. A dirigere l'orchestra il giovane maestro Claudio Novati. Ascolteremo quattro brani in realtà esteticamente diversi fra loro ma comunque sia con un fil rouge che li collega. Sono la Vivaldiana di Malipiero, un omaggio del grande compositore e arrangiatore e musicologo del Novecento al Prete Rosso, alle composizioni di Vivaldi di cui lui è stato anche uno dei grandi riscopritori, trascritta in chiave più sinfonica. Dopodiché ascolteremo il divertimento per Fulvia di Casella che è un pezzo per bambini, una serie di acquarelli composti per la figlia Fulvia. Dopo la pausa ascolteremo Summer Day di Prokofiev. Anche in questo caso si tratta di pezzi composti per bambini, sono pezzi composti originariamente per pianoforte. Tutto, vi lasciamo adesso alla diretta del secondo tempo di Pistoiese Prato, al termine intorno alle 21.20 la trasmissione di medicina e benessere in salute. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per averci seguito e arrivederci.